Proietti E così quel ciac che i fan non avrebbero mai voluto vedere è arrivato Ultima scena nella chiesa di San Teofemia a Spoleto Dove sono state girate le recenti stagioni di Don Matteo Abbracci e applausi di una squadra stretta attorno a quel personaggio sempre discreto Amato da milioni di telespettatori Caro Terence, da Doc a Don, un grandissimo abbraccio Dico ancora una volta che è stato un orgoglio, un onore e un privilegio cavalcare al tuo fianco La stessa tonaca per oltre 250 episodi che hanno portato alla tredicesima stagione Sarebbe stato Terence Hill a scegliersi il suo successore, sarà Don Massimo, Raul Bova Ciao Terence, sei sempre con noi You are sempre too new Too new, non so l'inglese però Mega Grazie 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 Grazie